Qual è la situazione al momento e poi ricostruiamo che cosa è accaduto dal mese di maggio quando ci siamo visti proprio qui a Novivelia per annunciare questo provvedimento del comune. Guarda, noi dobbiamo essere responsabili su certi problemi, non si può scherzare. Poi chi vuole fare speculazioni può farle tutte, però quando si tratta dell'incolumità pubblica ciascuno di noi ha il dovere di fare tutto quello che è necessario per tutelare i cittadini nuovi, per tutelare i perlegrini, per tutelare tutti. Non ci sono mezzi termini, non ci sono mezze vie. Tu o li tuteli oppure metti a rischio la vita di chi si recava in montagna sul santuario. È una questione di sicurezza, la strada al momento non è sicura. Guarda, è esclusivamente di sicurezza, ma non lo dico io. L'hanno detto gli esperti geologi dell'autorità di Bacino che hanno valutato un poco tutto, quindi la protezione civile. C'è un rischio reale e noi già abbiamo fatto tanto perché con una somma urgenza abbiamo rimosso un poco quelli che erano i massi più pericolosi. Alla fine io mi sarei aspettato che quell'intervento poteva essere risolutivo, dare in un certo modo la possibilità di poterlo aprire anche se in maniera protetta, anche se in maniera controllata. Però in tutti questi mesi ne abbiamo sentite tante, anche di motivazioni più o meno, come dire, veritie. Guarda, ognuno dice quello che vuole, ognuno parla per chi pensa di fare opposizione, chi pensa di... la verità è una sola. Io ho una responsabilità, ripeto, che è quella di tutela dell'incolumità dei cittadini. Io invitare queste persone a ragionare su un fatto che se Dio non voglia succedesse qualcosa, i primi ad aggredire il comune, l'amministrazione comunale sarebbero proprio loro. Chi oggi si scaglia nel dire che noi abbiamo chiuso la strada sarebbero i primi a scagliarsi perché non abbiamo fatto nulla per tutelare l'incomunità pubblica. Io vado avanti per la strada che è quella istituzionale, che è quello che riguarda il mio dovere, ma d'altro canto la stessa cosa ho fatto dieci anni fa. Forse no, 12 anni fa. Nel 2007 ci fu un dissesto, non è stato colpito da un dissesto importante e io in quell'occasione feci altrettanto dei provvedimenti seri, importanti, urgenti, che furono quelli di dare l'inagibilità delle case, per cui fu uno dei cittadini ebro di grave difficoltà, allora per loro tutela. Oggi, grazie a quel gesto e grazie al nostro impegno, si stanno completando dei lavori importanti che stanno mettendo in sicurezza tutto un versante. Abbiamo innanzitutto completato il messo in sicurezza della strada Novi-Cannalonche, che prima era impraticabile, stanno facendo dei lavori importanti sul collegamento al nostro cimitero e mettendo in sicurezza tutto quel versante e quindi rendendo agibile tutta un'area importante per noi. Allora pure ne dovete sentire di tutti i colori, però ecco, i risultati poi si vedono, bisogna essere responsabili e seri. Noi non è che siamo... E' un sacrificio quello di quest'anno per mettere in sicurezza la strada. Ma assolutamente sì, assolutamente sì, perché ripeto, non c'è giustificazione. Noi siamo quelli che ci scandalizziamo quando cade un ponte perché nessuno ha fatto niente e muoiono 40 persone, come a Genova o altre situazioni del genere. Poi siamo pronti a scagliarci quando si prendono dei provvedimenti per tutelare, per accendere un riflettore su dei problemi che ci sono. Quindi francamente non mi meraviglio, però comunque vado avanti per la mia estate, che è quella della responsabilità, di grande responsabilità. Noi siamo in contatto con i vari enti per fare in modo da mettere, da dare un minimo di sicurezza a questa strada che spero che per l'anno prossimo noi ci possiamo riuscire e quindi poterla riaprire con la sicurezza migliore per chi va sul santuario. Quindi abbiamo l'inverno, come di questi mesi invernali per lavorare, per farci trovare pronti a maggio? Guarda, sicuramente d'inverno sarà impossibile lavorare in montagna, perché fra la neve e tutto quanto il resto non è che ci sarà molto tempo per poter lavorare. Abbiamo questo periodo per assicurarci dei finanziamenti importanti e per poi poter procedere alla messa in sicurezza che viene prima di ogni cosa. Quindi io di polemiche ne sto sentendo tantissime, ma da parte semplicemente di chi persegue altri interessi, che non sono gli interessi pubblici, né l'interesse del comune, né l'interesse del santuario, né l'interesse del santuario soprattutto. Hanno voluto mettere insieme la nostra posizione che teniamo sul santuario col problema della strada. Sono due problemi distinti e separati. Noi da anni che stiamo ponendo delle problematiche sulla gestione del santuario, dobbiamo riconoscere, non è un qualcosa che lo avvertiamo solamente noi, che per quanto riguarda i servizi, il santuario afferma 50 anni fa, è un santuario oggi, nel 2019, che non ha un servizio idrico adeguato, non ha un servizio di smaltimento dei luogami adeguato, non ha un servizio elettrico adeguato, quindi non ha altri servizi fondamentali perché questo santuario possa aspirare a dei traguardi diversi e più importanti anche per l'economia, per il pellegrinaggio innanzitutto, per fare in modo che possa restare, e possa tramandarsi lo spirito dei pellegrini che per secoli e secoli ha visto spostarsi tutte le popolazioni della Basilicata e della Calabria a venire con tantissimi disagi su questo santuario. Fino al 2000, quella strada, lo voglio ricordare, l'ho aperta io nel 2002, l'ho aperta perché era chiusa, l'ho aperta io, quindi questo ci tengo a ricordarlo. Ma allora le persone venivano sul santuario, arrivavano a fiume freddo, andavano a piedi, andavano con i muli, andavano con l'asino, quindi lo spirito era talmente forte che li portava ad essere sul santuario. Quindi non capisco tutto questo agitarsi. Noi, ripeto, al dia della strada stiamo contestando il modo di gestire il santuario. Il rettore del santuario per 50 anni, anziché cercare e accettare la collaborazione delle varie amministrazioni che sono sosseguite di Noviveglia, ha pensato a fare causa al comune di Noviveglia, pretendendo una proprietà inesistente, tant'è vero ci sono delle sentenze importanti che partono già dal 1870 a 1900, vari accordi che prevedevano determinate cose, che prevedevano addirittura che ci fosse una rendicondazione dei proventi del santuario unitamente al comune. Ma noi questo non lo vogliamo perché non ci interessa, noi non vogliamo nulla dal santuario. Vogliamo che il santuario possa avere tutte le strutture importanti affinché possa rappresentare una meta ambita e questo è il nostro obiettivo. Noi ci teniamo tanto per il santuario, per cui siamo disposti a tutto e soprattutto non possiamo essere trattati come forestieri. Noi per 50 anni il Rettore ha trattato i novesi come dei forestieri, ci ha fatto sentire forestieri in casa nostra e questo noi non lo vogliamo più consentire. Quindi io dico a quei novesi che fanno polemiche su queste, se loro sono d'accordo a che i novesi possano essere trattati come forestieri dal santuario, bene, che si accomodi, debbono fare una scelta. Se loro sono d'accordo a che i liquiami continuano ad essere sversati in aperta montagna, sono delle loro scelte. Se loro sono d'accordo a che il Rettore continua a fare causa pretendendo una proprietà che non esiste, lo facciano. Qui si tratta di difendere gli interessi, ma per quel senso, per quello spirito, non di voler pretendere chissà che cosa, ma per uno spirito di giustizia, di difendere quelli che sono i diritti dei novesi, che non è stato mai in contrapposizione al santuario, anzi, il novese è stato sempre di supporto al santuario. Quelle foto che lo stesso lettore mostra, quando portano con grande fatica i gruppi elettrogeni sul santuario, sono quelle immagini, quei personaggi, sono tutte gente di novi che portavano, che hanno fatti i sacrifici maggiori per conservare il santuario. E francamente non ho mai capito l'atteggiamento del Rettore nel volerci estragnare, addirittura nel pretendere di cambiare la denominazione di quel santuario. Quel santuario è conosciuto come Madonna del Sacromonte di Noviveglia per Don Carmine e la Madonna del Sacromonte. Ha reso anche quel santuario anonimo. Allora, se a questi novesi che fanno polemiche contro di noi, va bene che Don Carmine continua a parlare di Madonna del Sacromonte e non del Sacromonte di Noviveglia, si accomodano, facciano questo. Però devono sapere che assumono una posizione contro gli interessi di una popolazione. Il Rettore, all'ultima sentenza che ha visto ancora una volta portare le nostre motivazioni, ha proposto ancora una volta appello. E quando deve durare questa? Perché così vuole Don Carmine. Io ricordo a Don Carmine, che con i proventi del santuario, che con le offerte dei pellegrini, Don Luca Petraia ci ha realizzato, ha iniziato l'ospedale San Luca, io chiedo a Don Carmine, e chi ha anche altre responsabilità, in 50 anni di gestione, al di là dei lavori fatti sul santuario, che possono essere condivisi o non condivisi. Io non li condivido solamente in parte, perché magari avessimo lo stesso santuario che tenevamo 40 anni fa, oggi avremmo avuto un borgo medievale straordinario, perché il recupero non va affatto come è stato fatto lì sopra. Quindi contesto anche questo suo modo di vantarsi. È stato fatto un recupero dove sono state tolte pietre secolari messe a terra, per sostituirle col cemento. Quindi di questo stiamo parlando. Quindi se a talunno vi si va bene questo, se ne assumono l'odora, la responsabilità. Io per la verità devo dire che tutte le amministrazioni che si sono sosseguite hanno portato avanti sempre la stessa tesi. Cioè io sono in linea con quello che tutte le amministrazioni hanno sostenuto. Cioè significa che l'innovese vero porta avanti questi temi. E un'altra cosa, il volere distruggere le tradizioni. Il volere distruggere le tradizioni. La Chiesa si regge sulle tradizioni. Quando poi si distruggono certe tradizioni, si danneggia anche lo spirito stesso del santuario. e poi assistiamo che diventa un santuario mordi e fuggi. Cioè la gente va lì sopra. C'è chi ci va per pregare, ma c'è chi va per fare un'escursione. C'è chi va per fare un picnic. E quindi poi noi stiamo prendendo un altro problema importante. Lì sopra c'è un albergo. Ci sono delle cose meravigliose da mettere in circuito. Ed è chiuso. Cioè è possibile che tutti i santuari portano benessere. ma non solo a nuovi, ma alle popolazioni vicine. Questo santuario porta problemi e non porta un'occasione di sviluppo. E allora dobbiamo dare, bisogna avere il coraggio di affrontare i problemi. Bisogna avere il coraggio perché se continuiamo ad essere ipocriti, come siamo stati fino adesso, noi non ci salveremo. I problemi che noi teniamo, soprattutto nel nostro Cilento, il Cilento è una realtà meravigliosa che ha tantissime risorse, ma che forse con l'ipocrisia, per colpa dell'ipocrisia, per colpa della poca attenzione, noi viviamo in una situazione davvero quasi di disperazione, perché abbiamo grandi problemi. la disoccupazione, i giovani se ne stanno andando, lo spopolamento, sono problemi seri che vanno affrontati nel modo opportuno. E questo è un problema che può anche arginare questi fenomeni unitamente a tutti quanti gli altri. Io dico sempre... Ci state lavorando anche su questo? Noi ci stiamo lavorando. Devo dire che abbiamo trovato una grande disponibilità in sua eccellenza, nell'avviare un discorso del genere che io ringrazio e conto davvero di offrire una collaborazione fattiva in modo di poter unire le forze per rilanciare nel modo più giusto e nel modo migliore il santuario. Ciascuno facendo la propria parte, perché quando poi si cercano di occupare spazi diversi, e allora si impedisce a chi deve fare altre azioni di poterle fare e quindi si priva di risorsi importanti che servono poi a raggiungere lo scopo essenziale.